Ho avuto la possibilità di testare la bellissima fotocamera e videocamera Lumix S5-2X. Nel video di oggi farò una recensione globale della fotocamera e andrò a dirvi quelle che sono le mie impressioni a riguardo. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e oggi sono qui a fare un video per voi in collaborazione con Panasonic che mi ha mandato in prova la Lumix S5-2X. Lo sapete, mi sarebbe piaciuto cominciare questo video filmando con la S5-2X, ma poi mi sono detto se la uso per filmare come faccio a farvela vedere e quindi non l'ho fatto. Per cui se volete vedere le riprese che escono da questa macchina io vi invito a iscrivervi subito al mio canale perché usciranno nei prossimi giorni, nei prossimi episodi, degli altri video in cui vi farò vedere le effettive capacità di questa macchina, mentre oggi andiamo solamente a esaminarla. Mettete un bel like a questo video se vi ho dato delle informazioni utili perché comunque servono anche le specs per capire se può essere la macchina giusta per le vostre esigenze. Un caloroso ringraziamento a tutto il team di Panasonic per avermi dato la possibilità di provare questa videocamera e fotocamera. Sono molto contento dei risultati che ho ottenuto finora e adesso andiamo un pochettino a vedere di che cosa si tratta. Cominciamo con un po' di specs. Si tratta di una fotocamera e videocamera full frame con un sensore da 24 megapixel, quindi avremo un formato finale di 6000x4000 pixel. Bello, molto bello. Secondo me tra i 24 e i 30 megapixel è la perfezione per una full frame. Non vedo il motivo di andare oltre, quindi questa è veramente un'ottima combinazione. Sensore CMOS. Arriva a un minimo di ISO 50, però è un'estensione, così come arriva a un massimo di ISO 200000 e qualcosa, ma anche lì è un'estensione, quindi diciamo che ha un range intermedio molto molto buono in cui ce la si può giocare e poi ha queste due estensioni per chi vuole spingere ancora di più. Stabilizzazione. Sensor shift. Quindi abbiamo a che fare con un sistema di stabilizzazione molto buono. La casa dichiara che è fatto apposta per fare riprese mentre si cammina. Ora io non l'ho ancora testato mentre cammino. Ho fatto qualche foto e qualche ripresa video. Andremo nel corso di qualche video successivo, se riuscirò, se avrò il tempo, a fare qualche test anche per quanto riguarda il video. Per il momento ricordatevi che ha un sistema di stabilizzazione molto interessante perché ne riparleremo più avanti. Punti di messa a fuoco. Sono 779, quindi praticamente sono 800. Diciamo che coprono tutto il fotogramma. Ho avuto modo di testarlo e la messa a fuoco è veloce, precisa, capisce molto bene la situazione. Quindi da quel punto di vista devo dire rispetto a modelli precedenti sono stati sicuramente fatti dei passi avanti. Io non ho provato tutti i modelli di Panasonic fino a questo punto. Ne ho provato qualcuno. Però devo dire che qui secondo me abbiamo veramente fatto un passettino in più da quel punto di vista. Ovviamente abbiamo l'LCD completamente snodabile. Una cosa interessante è che questa fotocamera ha dei tempi minimi e massimi di shutter molto interessanti perché arriva a un massimo di un 8 millesimo di secondo e questo è abbastanza standard per fotocamere e videocamere di fascia alta. La cosa che ho trovato molto interessante è che permette di fare fotografie con pose di un minuto. Quindi rispetto a come sono abituato io il limite massimo di solito è 30 secondi, a volte anche 15. Avere la possibilità di scattare a un minuto di tempo di posa senza bisogno di orpelli esterni come intervallometri o altri aggeggi di terze parti magari da dover comunque comprare. L'ho trovata una feature molto interessante. Copertura del viewfinder 100%. Sembra una cavolata ma è importante. Abbiamo 9 scatti di fuoco continuo quindi io non la uso la raffica però comunque 9 scatti al secondo sono tanti. Secondo me è una buona velocità. Per gli amanti del doppio card slot ecco che qui abbiamo il doppio card slot ed è un doppio sd quindi non abbiamo la possibilità di utilizzare le card flash però le sd hanno fatto passi da gigante quindi secondo me va più che bene così anche perché io registro abitualmente anche in questo momento sto registrando su una sd e sto registrando in 4k 422 10 bit a 24 frame al secondo non ho nessun problema non lagga non si ferma si si scalda un pochino ma niente di più e quindi funzionerebbe esattamente nello stesso modo anche qui ma anche qua ricordatevi che abbiamo delle opzioni ulteriori per la registrazione di video di cui vi parlerò più avanti. Ultime cose da dire qui abbiamo un po' di connessioni e in particolare abbiamo l'ingresso microfonico essenziale perché questa è diretta prevalentemente ai videomaker e abbiamo l'uscita cuffie quindi possiamo registrare con un microfono esterno e fare monitoring con una cuffia quindi sentiamo l'audio direttamente in registrazione. Sul secondo pannello invece abbiamo HDMI e USB di tipo C. Ora questi sono particolarmente importanti perché ci permettono di fare tutta una serie di cose molto utili per i videomaker che vi spiegherò più avanti. Bene ma parliamo un attimino del corpo macchina in sé. Come potete vedere si tratta di un corpo macchina dalla costruzione io la definirei tradizionale perché fondamentalmente ricorda molto una vecchia reflex e questo a me piace molto. Abbiamo quest'impennaggio che ricorda un pentaprisma anche se ovviamente è una mirrorless quindi abbiamo un oculare digitale che si comporta molto bene all'interno di questa scocca abbiamo una ventola per la dissipazione del calore che quindi ci consente di girare video anche in formati importanti come il 5.8k per tempi anche abbastanza lunghi senza andare in overheating quindi la macchina non dovrebbe surriscaldarsi quando andiamo a fare delle registrazioni prolungate anche con dei formati molto pesanti. Una delle particolarità di questo modello è ovviamente la scocca total black infatti come potete vedere sia le ghiere sia i pulsanti riportano sì i simboli delle varie funzioni che possiamo selezionare ma non sono bianco puro come possiamo vedere per esempio sulla scocca dell'obiettivo sono invece in grigio scavato quindi un design minimal molto bello molto molto elegante che personalmente mi piace molto anche il logo lumix sul frontale è oscurato quindi non lo vediamo ho sentito dire che questa è una scelta dovuta al fatto che quando si fanno riprese video magari questo può essere riflesso su delle superfici e si vede da fastidio e quindi hanno pensato di prendere due piccioni con una fava oscurando tutto e ricavando al tempo stesso un bel look total black che è la caratteristica di questo body. L'unica eccezione da qui si capisce che è una fotocamera e videocamera per il videomaker è il tasto rec il tasto rec è l'unica parte di colore rosso quindi è un'indicazione molto chiara nel momento in cui vai a premere rec parte la registrazione e questa è una fotocamera pensata per il videomaker cose che mi piacciono molto di questo body prima di tutto le ghiere come potete vedere qui abbiamo una sfilza di ghiere e questa cosa a me fa impazzire fosse per me io vorrei le stesse ghiere che ci sono qui su tutte le mie macchine tutte andiamo con ordine prima ghiera sulla sinistra noi qui abbiamo le modalità di scatto quindi abbiamo per esempio lo scatto singolo abbiamo il timer abbiamo lo scatto con telecomando abbiamo tutta una serie di cose che possiamo impostare direttamente da qui con una ghiera e questa cosa io la adoro io questa la vorrei su tutti i miei corpi macchina lo so che fa salire il prezzo ma è una bella cosa io la vorrei tanto poi si può fare anche dal menu interno magari ma averlo qui per me è veramente oro ed è un piacere regolarla da qui e vedere com'è regolata anche quando è spenta quindi io quando la prendo in mano so com'è impostata anche prima di accenderla questa cosa per me non ha prezzo seconda ghiera che troviamo sul lato opposto ovviamente la ghiera della modalità dove abbiamo un manuale priorità le varie custom che possiamo impostarci le scene video subito di fianco abbiamo il pulsante accensione che è solo a due posizioni perché la modalità video è sulla rotella mode quindi da quel punto di vista non c'è nessunissimo problema passiamo oltre qui abbiamo una ghiera intorno allo shutter quindi abbiamo una prima ghiera subito qui a portata di mano una seconda ghiera proprio qui sul pollice quindi ghiera 1 ghiera 2 subito qui sotto abbiamo la terza ghiera quindi abbiamo tre ghiere dedicate ai controlli dell'esposizione della nostra fotocamera molto bello a me piace avere una ghiera ovunque vada a mettere un dito magari non le uso ma se mi dovessero servire sono lì dove posso trovarle questa cosa di nuovo non ha prezzo io vorrei queste tre ghiere su tutti i corpi macchina che uso e purtroppo non sempre ci sono ovviamente non ci facciamo mancare nulla perché qui come potete vedere c'è anche il joystick un joystick che ho avuto modo di provare che è piccolo però funziona bene per trascinare il punto di messa a fuoco per navigare nei vari menu quindi ottimo lavoro da quel punto di vista ora una chicca una cosa che mi ha veramente sorpreso e che mi piace veramente tanto e che farò fatica a dimenticare adesso che l'ho imparata di fianco al joystick abbiamo una ulteriore ghiera e questa ghiera ha tre posizioni con autofocus singolo tic autofocus continuo tic manual focus questa cosa è bellissima perché qui io sempre solamente con un tocco del pollice posso andare a cambiare la mia modalità di messa a fuoco senza aprire sette menu e dover andare a toccare robe sul display tac lo faccio direttamente qui ho un'indicazione sia sul viewfinder sia se guardo nell'oculare della modalità di messa a fuoco che sto utilizzando molto pratico questa cosa di nuovo la vorrei su tutte le macchine che utilizzo poi magari non la uso ma mi piace da matti averla qui all'interno di questo selettore poi abbiamo un bottone che serve a abilitare la selezione dei punti di messa a fuoco quindi posso navigare tra le varie opzioni posso scegliere il punto di messa a fuoco singolo posso scegliere le zone posso scegliere tutta copertura su tutte le varie opzioni e posso andare a abilitarne una piuttosto che l'altra semplicemente col tocco di questo piccolo bottone il resto sono opzioni abbastanza standard la ghiera in questa posizione funge anche da tasto croce quindi abbiamo sia il joystick sia il tasto croce abbiamo un pulsante menu e set proprio qui nel mezzo pratico comodo niente da dire abbiamo un pulsante return che funge anche da cestino della spazzatura qui in basso abbiamo un pulsante display che fa navigare attraverso tutte le varie impostazioni del display e dell'ultimo qui in basso a destra sul lato opposto qui in alto abbiamo replay e abbiamo live viewfinder niente da dire su queste sono opzioni abbastanza standard andiamo a dare un'occhiatina sul top adesso perché qui abbiamo tre bottoni quindi una configurazione abbastanza semplice e abbiamo white balance figo avere il white balance qui perché significa che noi possiamo premere e poi col giro di una ghiera possiamo andare a impostare il white balance da qui bello pratico mi piace il white balance è una cosa che si usa soprattutto per fare video quindi averlo qui subito a portata di mano senza dover entrare in un menu e andarlo a impostare questa è una roba che mi piace è bella secondo bottone che è contrassegnato da due due piccoli rilievi puntuti che quindi al tatto lo si riconosce immediatamente perché è il più utile dei tre il bottone iso quindi io premendo questo bottone poi posso andare con la ghiera a regolare i miei valori iso anche questo comodo bottone bello grande quindi non si rischia di perderlo il fatto che ci siano questi due rilievi a farmelo trovare subito è un'ottima cosa perché così io anche se sono al buio anche se sono di fretta vado col dito lo capisco immediatamente qual è il bottone centrale degli iso lo trovo subito non c'è possibilità di errore ultimo bottone qui sulla destra il bottone della compensazione dell'esposizione questo vi dirò io non lo userei mai questo quindi mi è abbastanza indifferente però so che molti lo usano quindi è bene che ci sia inoltre è anche possibile e questo ancora non l'ho verificato che gli si possa abbinare un'altra funzione quindi dovrei andare dentro nei menu a smanopolare perché forse gli si può abbinare un'altra funzione a quel punto diventerebbe più utile anche per me ora parliamo un po di quelli che sono i punti di forza dichiarati dalla casa per quanto riguarda questo bellissimo device innanzitutto la messa a fuoco abbiamo a che fare con un nuovo sistema di messa a fuoco ibrido che a quanto pare sfrutta il meglio dei due mondi rilevamento di fase rilevamento di contrasto per una messa a fuoco e un tracking veramente molto fluidi e molto piacevoli questo io lo devo ancora verificare perché come detto non ho fatto ancora i miei test per quanto riguarda le riprese video li faccio domani in realtà probabilmente per cui mi fido di quanto riportato dalla casa produttrice su questo punto sono assolutamente fiducioso che la macchina si comporterà molto bene ma ve lo farò vedere in un prossimo video per quanto riguarda la stabilizzazione come detto abbiamo su questo corpo l'active is ovvero la stabilizzazione di immagini attiva a quanto pare renderebbe molto fluide le riprese anche mentre si cammina quindi avete presente quel bruttissimo effetto su e giù che abbiamo anche sullo smartphone banalmente quando noi facciamo una ripresa concamminata abbiamo quell'effetto molto brutto che nel cinema si risolve con un movimento dolly o con un crane o con qualcosa che regge la camera una stedicam qualsiasi cosa per tenere la camera livellata ed evitare quel fastidioso dondolio quindi noi avremo la nostra ripresa bella fluida cose che faceva stanley kubrick in film come shining o full metal jacket quelle belle riprese col dolly se ricordo bene le ha anche mezzo inventate lui quindi adesso si è fatto costruire delle cose apposta ovviamente noi non abbiamo dietro con noi una macchina da cinema ogni volta che accendiamo e dobbiamo fare due riprese ecco che un sistema di stabilizzazione come questo ci aiuta un pochino a ridurre l'ingombro di accessori in più che dobbiamo portarci indietro per ottenere più o meno un risultato del genere poi ovvio che se andiamo a montare una videocamera come questa su un sistema dolly su una stedicam o su un comunque uno stabilizzatore di qualche tipo miglioriamo ancora di più il risultato però in mancanza noi solo con questa stand alone possiamo fare delle riprese già più fluide anche mentre camminiamo il che non guasta mai nella vita di un videomaker terzo punto di forza molto importante per il videomaker i formati che questa videocamera mette a disposizione perché qui abbiamo ovviamente il full hd non ve lo sto neanche a dire abbiamo ovviamente la registrazione 10 bit 422 abbiamo la registrazione in 4k in modalità cinema quindi con 24 fps veri non i 23 97 ma proprio 24 frame al secondo reali che è una cosa è una chicca per il per il vero videomaker è una cosa che vogliamo assolutamente avere in qualche modo abbiamo poi la possibilità di girare ovviamente in 4k quindi abbiamo i formati più progrediti questa videocamera arriva a girare a 5.8k ma vi parlavo prima della dell'uscita usb c nel momento in cui noi andiamo a connettere un hard disk ssd esterno a questa fotocamera allora riusciamo a tirare fuori il massimo perché in questo caso e solo in questo caso possiamo registrare nei formati raw quindi il formato più ampio che possiamo di cui possiamo disporre il formato non compresso con tutte le informazioni catturate dal sensore e in 6k sono dei formati ovviamente giganti che pesano moltissimo e anche per questo c'è bisogno di un hard disk esterno ora vi dico la verità io questi formati non li uso e non credo che li userò mai perché sono troppo enormi per me sia da gestire da post produrre sia anche da girare io non ne vedo la necessità anche se di recente qualcuno mi ha fatto notare che una possibile motivazione potrebbe essere per esempio il fatto che nel momento in cui giriamo in 5.8k per esempio magari noi dobbiamo uscire semplicemente in full hd o anche solo in 4k abbiamo più spazio di manovra magari per fare un crop magari per fare uno zoom in uno zoom out possiamo farlo se abbiamo una risoluzione extra che non ci serve a quel punto possiamo croppare in post senza caduta qualitativa quindi da questo punto di vista è una cosa buona dobbiamo decidere quando usarlo se usarlo usiamolo con parsimonia perché sono file molto pesanti con tantissime informazioni soprattutto se andiamo a registrare in prores che è il formato massimo il più professionale che questa videocamera mette a disposizione da questo punto di vista è molto bella perché ci permette di avere un file pienamente lavorabile con cui possiamo fare color grading molto invasiva e con cui possiamo sostanzialmente sbizzarrirci e fare quello che vogliamo in post produzione quindi è un bel file per produzioni anche abbastanza serie anche abbastanza professionali ma di livello medio alto quindi da questo punto di vista è una bellissima macchina veramente molto bella e la quantità di codec di possibilità che ci vengono messe a disposizione devo dire mi ha stupito perché io non sono abituato ad avere tutte queste opzioni quindi da questo punto di vista bella sono colpito ah dimenticavo sempre per quanto riguarda le specifiche video abbiamo la possibilità come dicevo di registrare in formato raw prores 4k tutto all intraframes quindi la massima qualità possibile è veramente tutto quello che uno può desiderare da una videocamera poi dipende anche dall'ottica che gli vai a montare dipende sicuramente da come ha illuminato la scena ovviamente noi non possiamo pretendere di avere una scena brutta illuminata male e prendere la camera e riprendere aspettarci che venga fuori qualcosa di bello però se abbiamo una scena illuminata bene la camera di alto livello deve stare su un set comunque di buon livello se noi abbiamo una situazione di buon livello con una macchina come questa tiriamo fuori veramente un bel prodottino e arriviamo all'ultima particolarità anche questa non è che mi ha sorpreso perché è una cosa ormai che si fa però non me l'aspettavo su una macchina di questa fascia perché è una macchina di questo livello non mi aspettavo che avesse una funzionalità di questo tipo invece ce l'ha la possibilità di essere connessa per il live streaming voi direte è una cavolata se ti prendi una macchina come questa non fai il live streaming e invece se io ho una macchina come questa e voglio una qualità di immagine bomba per andare in live streaming adesso posso farlo avere la possibilità di decidere è una cosa molto bella noi qui abbiamo la possibilità di andare in live streaming via bluetooth quindi tramite l'app di panasonic possiamo connetterci e connettendo la camera a un dispositivo possiamo andare in live streaming tramite quel dispositivo oppure lo possiamo fare via cavo quindi non è una cosa casuale ci hanno veramente voluto offrire la possibilità di usare la qualità di immagine di questa camera per fare le nostre dirette i nostri live streaming è tanta roba secondo me questo rende questa videocamera veramente molto completa per il videomaker che volesse entrare a bomba in questo mondo una ulteriore cosa che ho trovato carina che non so se userei però però la proverei comunque ho visto che questa macchina ha la possibilità di impostare delle lat direttamente in camera le lat sono le look up table che sono per chi non fosse pratico del videomaking sono praticamente dei fogli di istruzioni che dicono al nostro al nostro dispositivo al nostro software al nostro computer o alla nostra fotocamera direttamente che tipo di look applicare alle immagini quindi non avete presente quando selezionate magari sulla fotocamera potete scegliere magari standard piuttosto che portrait piuttosto che naturale ecco con le lat andiamo un pochettino oltre perché lì non ci limitiamo più a dare alla fotocamera un'indicazione di massima sulla nitidezza e sul contrasto ma possiamo proprio andare a intervenire pesantemente sui colori per andare ad agire magari sulle tinte o sulla temperatura colore o anche addirittura su una vignettatura o su degli effetti anche più elaborati se abbiamo la possibilità di gestire tutto questo in camera è una comodità in più perché per taluni progetti io posso impostarmi una lat direttamente in camera faccio la mia ripresa e ho già il mio video la mia foto già pronta all'uso quindi se mi sono giocato bene le mie carte l'ho fatto con consapevolezza mi balzo la post produzione a piedi pari e questa è una cosa che ripeto io non so se userei ma in realtà sì perché un bel momento dico dai vado sempre da quel cliente gli faccio sempre lo stesso tipo di video perché ha quel tipo di attività quindi gli faccio quella roba lì mi creo una look up table con un look dedicato a quel cliente quando vado da quel cliente imposto quella look up table e ho quel look per quel cliente direttamente in camera senza più bisogno di fare tutta questa fatica imposta a colorare e poi a esportare un filmato pesante che ho dovuto colorare quindi mi porta via tanta cpu questa è una cosa che mi sono convinto mentre lo dicevo credo proprio che la proverei volentieri bene amici non ho più granché da dirvi su questa camera perché credo di avervi detto praticamente tutto giusto una nota di folklore per quanto io sia abituato a utilizzare fotocamere quindi ne prendo in mano diverse tutte le settimane della mia vita ormai da diversi anni devo dire il feeling che mi ha dato questa mi piace mi piace molto e vi dico io vengo dal mondo canon quindi non sono abituato a una scocca così spigolosa perché questa vedete ha una costruzione come dicevo all'inizio un po' retro per i miei gusti quindi con con questi smussi poco stondati molto spigolosi io potrei anche non essere avvezzo a un grip di questo tipo per quanto la gomma la plastica che avvolge il grip sia a mio parere molto molto buona quindi il grip è assolutamente confortevole mettiamola così sono abituato a un tipo di grip più moderno più tondo più bombato ciò nonostante quando prendo in mano questa non me la sento di dire che mi manchi qualcosa la macchina sta in mano perfettamente il fatto che sia così squadrata devo dire mi aiuta a direzionarla perché il fatto di sentire un angolo preciso nella mano mi aiuta a dargli una direzione io sento proprio qui nel palmo come la sto orientando invece di essere tondo che quindi io devo andare un po a sentimento per andare a centrare quello che ho davanti qui con quest'angolo piantato nel palmo della mano ho una percezione molto più netta di quale sia il davanti per cui ogni costruttore ha i suoi pro i suoi contro io devo dire che questo è un design che magari io non avrei scelto vedendola sugli scaffali sono onesto vedendola sugli scaffali non l'avrei scelta per il design per quanto mi piaccia ma ne preferisco delle altre però tenendola in mano capisco che le scelte di design che hanno fatto hanno il loro perché hanno assolutamente il loro perché e oltretutto per quanto riguarda la disposizione di ghiere e pulsanti devo dire è di una comodità estrema quindi se da un lato magari la scocca non è la prima che avrei preso vedendone tante su uno scaffale per contro devo dire che tenendola in mano ho veramente ho più roba di quella che mi serve a portata di pollice del solo pollice della mano destra e indice della mano destra ho veramente tutto quello che mi serve direttamente qui posso andare a scattare le mie foto così faccio partire il mio video così ho i miei bottoni qui ho una ghiera qui ho un'altra ghiera qua dietro ho un'altra ghiera il tasto croce qui ho il joystick qui ho il selettore per i punti di messa a fuoco veramente con una mano sola faccio l'impossibile con una macchina come questa quindi da questo punto di vista costruzione secondo me veramente ottima a questo punto vi chiedo fatemi sapere in un commento voi che cosa ne pensate so che molti di voi mi seguono perché ho iniziato questo percorso su youtube parlando di prodotti canon però io non ho mai disprezzato gli altri brand anzi devo dire che mi piace molto vedere le particolarità di altre macchine che magari non ho la possibilità di usare tutto l'anno questa è una di quelle io questa non ce l'avrò tutto l'anno perché prima o poi dovrò restituirla e so già che mi si spezzerà il cuore ricordatevi di iscrivervi al canale perché a questo punto usciranno dei video successivi in cui vi farò vedere che tipo di foto andiamo a fare con questa macchina andremo a vedere la qualità video la sensibilità iso tutta una serie di cose iscrivetevi subito così non rischiate di perdervi i prossimi contenuti un ringraziamento speciale al team di panasonic per averci dato la possibilità di avere questa meraviglia qui sul mio canale signori è stato come sempre un piacere passare un po del mio tempo con voi e io e panasonic vi diamo appuntamento al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.